Maxi sequestro di droga a Caltanissetta nell'ambito di un'operazione volta a contrastare il traffico di stupefacenti nelle piazze di spaccio Nissene e nei comuni dell'Agrigentino. Sequestrati 40 chili di hashish, una persona è stata arrestata. Si tratta di un agrigentino fermato in flagranza di reato. Il giudice per le indagini preliminari ha proceduto alla convalida dell'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere ad Agrigento. A bordo della sua auto c'erano 200 panetti di hashish del peso di 100 grammi ciascuno. I finanzieri hanno approfondito ed eseguito una perquisizione in un deposito. All'interno hanno trovato altri 20 chili di hashish suddivisi in 200 panetti, in confezioni uguali a quelle trovate nell'auto. Il deposito era riconducibile ad un altro agrigentino che è stato denunciato a piede libero. La droga sequestrata e messa sul mercato avrebbe consentito guadagni illeciti per circa 400 mila euro.